È particolarmente significativo quanto viene narrato nel brano di Vangelo di oggi. Non c'è chiarezza su chi sia davvero Gesù, se il figlio di Dio, un impostore, e i sacerdoti farisei decidono di farlo arrestare. Inviano delle guardie, ma queste tornano a mani vuote ed ecco che cosa leggiamo nel testo. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, questi dissero loro, perché non lo avete condotto qui? Risposero alle guardie, mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro, vi siete lasciati ingannare anche voi? Io riconosco che le parole dette da Gesù e contenute nei Vangeli hanno una forza diversa da tutte le altre, un fascino diverso, un fascino particolare. Si tratta di parole che sono in grado di cambiare i cuori, di convertire, di creare e suscitare il bene, l'amore. Quelle parole hanno un potere immenso. Si tratta soltanto di starne a contatto, di frequentarle, di accoglierle nella nostra vita. Più volte in questa settimana ho sottolineato l'importanza di andare a Dio ogni giorno perché da lui, dal suo cuore, scaturisce una sorgente zampillante di amore, di creatività, di vitalità, capace di rigenerarci, di salvarci. Questo avviene pregando e ascoltando la sua parola. A volte, come quelle guardie, siamo indirizzati verso strade sbagliate, verso scelte distruttive. Ma se ogni giorno troviamo il tempo per leggere, meditare la parola di Dio e accoglierla davvero, ecco che possiamo tornare indietro, possiamo cambiare direzione, così come hanno saputo fare quelle guardie rifiutandosi di arrestare Gesù. Troviamo ogni giorno nella nostra preghiera il tempo per leggere ed ascoltare la parola di Dio. Leggendo un brano della Bibbia oppure una lettura della liturgia del giorno ed sperimenteremo poco per volta o giorno per giorno che quelle parole hanno un potere profondo, il potere di toccare i nostri cuori, di bussare ai nostri cuori per attendere che apriamo ed introdurre così una ventata di vitalità per rigenerarci, per rinnovarci, per riportarci al bene, al bello. Altro che lasciarci ingannare, si tratta di lasciarci affascinare dalle parole di Gesù, aprire ad esse i nostri cuori, le nostre menti, perché hanno il potere di sanare le nostre ferite, di rimetterci in piedi, di condurci verso nuove strade e nuovi orizzonti. Non a caso il brano di Vangelo si conclude con queste parole riferite ai sacerdoti e ai farisei e ciascuno tornò a casa sua. Quegli uomini ascoltavano solo loro stessi e i loro pregiudizi e di conseguenza non hanno saputo lasciarsi stupire e toccare da quelle che sono state le parole di Gesù. Perciò ritornano da dove sono venuti, ritornano alle loro case, si rintanano nel loro io e nella loro superbia e durezza di cuore. Buona giornata.